Musica classica, cene sotto le stelle ma anche arte e socialità. Saranno questi gli ingredienti per l'estate 2020 messi in campo da Faventi a Sales nel cortile del complesso degli ex salesiani. Quattro appuntamenti che dalle 19 alle 23 riempiranno l'estate Manfreda fino alla fine di agosto. Questi eventi chiaramente sono rispettosi delle prescrizioni in materia anticontagio emanati dalle autorità competenti. Sono iniziative che mettono a fattor comune le grandi esperienze della scuola di musica, della scuola di disegno, come pure i luoghi di aggregazione della mensana, della palestra Overcome, come pure di e-work che qui ha un suo spazio. Quindi tutti insieme per offrire dei momenti di aggregazione e anche di crescita culturale. Un impegno certamente molto importante per le tante realtà che si trovano qui insediate, come pure, se parliamo in generale, della riprogrammazione di tutta l'estate faentina. Ci vuole impegno e creatività, riuscire a declinare il presente, questo presente così diverso dal solito, quindi ci vuole creatività e disponibilità di impegno.